Fra Sporting e Real Sociedad. Dinamo Zagabria a Stoccarda 1-3, altra vittoria vuole casa. Al 43esimo Klinsmann in contropiede, splendida azione personale, va via e porta in vantaggio lo Stoccarda. Rivediamo, vediamo che qui Klinsmann ha quattro avversari, li fa fuori tutti e quattro e poi batte il portiere e porta in vantaggio lo Stoccarda, superando il portiere Radice. Al sesto, vediamo ancora l'azione che va via sempre di rapidità in contropiede, viene appoggiata ora su Klinsmann che fa proseguire Buchwald, Buchwald tira e sull'intervento di Radice interviene Walter e realizza il gol. Ecco il tiro di Buchwald, deviato appena da Radice, subentra nell'azione Walter e realizza il 2-0. Due minuti dopo, azione di calcio d'angolo e Buchwald questa volta realizza direttamente di testa, proprio sfruttando il cross che gli veniva dall'angolo. Rivediamo anche questo gol, siamo sul 3-1, soltanto al 34esimo, addirittura in contropiede, a questo punto è lo Stoccarda che domina e quindi va via quasi in contropiede la formazione di casa della Dinamo Zagabria che va a segnare con Besec il gol che fisso il poteggio sull'1-3 ma ormai lo Stoccarda pare qualificato per il turno successivo.